Non riesco a credere che vuoi arrenderti ad un mio scatto d'ira. Non ci riesco proprio. Se mi hai dato la possibilità di poter rinunciare a te dopo di te, vuol dire che mi conosci. Allora devi concedermi il diritto di ripensarci. Devi averlo architettato, un sistema per farmi ricollegare a te. Undici volte Ed, undici volte Amy, undici volte te ed io, undici volte io e te, maiuscolo, minuscolo, ho provato tutte le combinazioni. Ma è inutile. Non puoi lasciarmi in un labirinto senza via d'uscita. Così vado fuori strada, amore mio.